Buongiorno, siamo con Stefano Poser dell'azienda Sasso Corno a Corno di Rosazzo e gli chiediamo come ha impattato nel suo modo di lavorare sia in vigna che in cattina la richiesta di questi ultimi anni di vini un po' meno potenti ma più beverini, facili. Sì, noi siamo un'azienda decisamente giovane e normalmente non proprio incline a seguire a tutti i costi le mode del momento e nemmeno a inseguire il mercato, però abbiamo deciso di divertirci un po' creando un prodotto diverso dal solito, un prodotto che in genere su questo territorio poche aziende producono, che è un vino rosato. Il nostro rosato nasce nel 2020 quasi per scherzo, è una piccola damigiana che poi è piaciuta ad amici e parenti, successivamente nel 2022 ho deciso di fare un salasso, come si suol dire, del nostro refosco e abbiamo provato a fare qualche centinaio di bottiglie in modo più ufficiale. L'esperimento è riuscito, questo vino è uscito con l'etichetta Eresia, che ovviamente come si può capire è tutto un programma per i discorsi fatti finora e col 2023, grazie anche a una vendemmia abbastanza favorevole in questo senso e anche studiata ad hoc per questo tipo di vino, abbiamo cercato di mettere insieme un 80% di refosco, che è una varietà che si presta, e un 20% di schioppettino, che comunque conferisce una bella freschezza. Abbiamo fatto una pressatura diretta degli acini diraspati di queste uve, una fermentazione spontanea, comunque nello stile aziendale, e poi un affinamento in uovo di cemento e in anfora, che tende a preservare le caratteristiche di un vino fresco, giovane, leggero, che è in uscita a giugno 2024, quindi dopo un affinamento piuttosto breve, un prodotto per l'estate, fresco, giovane e anche fatto un po' con un intento di divertimento e di sperimentazione. Grazie mille Stefano, allora aspettiamo Eresia di assaggiarlo. Grazie a voi.